ciao allora oggi video dei top del mese di febbraio 2018 allora il primo top che vi devo assolutamente mostrare sono queste salviette della sephora si chiamano instant eye polish remover wipe quindi sono le salviette rimuovi smalto e queste le trovate dentro il calendario dell'avvento comunque sia ho segnato il prezzo e per due salviette quindi due confezioni il prezzo è di 4 euro e 90 allora prima di tutto l'ho tenuta anche così ora è asciutta però vedete che è davvero grande cioè è grande è grandissima e poi è fantastica perché è super imbevuta quindi davvero passate la salvietta sul smalto viene via subito anche gli smalti colorati colori più scuri si rimuovono subito base top coat colore subito trup venuto via e quindi la trovo davvero fantastica penso che sia perfetta ad esempio da portare in viaggio perché chi usa ne usa una per tutte e due le mani quindi è perfetta e questa è un super top dimenticavo di dirvi che comunque sia ho visto ed è senza acetone quindi altra cosa importante non secca le unghie o le cuticole mi ero scordata di dirvelo e il profumo è delicato quindi non è quelli invadenti quelli che sono risolvente quindi delicato profumato non rimane neanche sulla pelle quindi super top come ho detto altro prodotto top di questo mese è questa crema viso della bottega verde eccola qua si chiama splendida crema viso antietà prime rughe dai 30 anni in su questa dice di essere indicata per la pelle da normale a secca ma io devo dire che questa crema non è stata affatto male perché applicata tutte le sere poco prodotto questo è un 5 ml e mi è durato tranquillamente due settimane applicato solo la sera poco prodotto si stende bene assorbe molto velocemente e alla mattina non mi trovo né la pelle unta né lucida quindi ok oltretutto idrata bene aiuta a mantenere la compattezza della pelle e quindi per le prime rughe o comunque sia dai 30 anni in su no io già comunque sia userei un prodotto più potente dai 20 25 perché no è meglio di una semplice crema 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 idratante non la compro perché comunque io preferisco altri prodotti più mirati alle mie esigenze di pelle e alla mia età comunque è valida e ho segnato il prezzo per 50 ml viene 34 euro e 99 35 euro ma il prezzo è scontabile con le promozioni in negozio oppure le cartoline i saldi o quello che volete e direi di tenerla d'occhio ultimo top per questo mese stratta di questo prodotto della felce azzurra questo è il deo stick profumo fresco delicato sulla pelle ed efficace 24 ore allora io l'ho provato in offerta e però mi mi sono segnata il prezzo per 40 ml di prodotto il prezzo è di 2 euro e 95 a prezzo pieno quindi neanche male allora è un deo stick quindi quello con la rotellina che viene su ma io ho proprio finito il profumo si è quello classico della felce azzurra quindi vi deve piacere questo profumo classico ma comunque non persiste sulla pelle è delicato non irrità la pelle certo non usatelo appena dopo la rasatura ma questo è ovvio è delicato non irrità ma è sicuro comunque sia io 24 ore intere non l'ho sinceramente non l'ho mai provato alla sera una sciacquata me la do sempre non ne macchia i vestiti né quelli chiari né quelli scuri appena applicato si asciuga subito quindi si può vestire immediatamente e sinceramente a me è piaciuto e magari quando è in offerta ne prendo questo ok allora questi erano tutti top del mese di febbraio fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e magari cliccate anche sulla campanella così non perderete le prossime recensioni beauty alla prossima ciao